Abbiamo messo in campo un nuovo servizio per i cittadini, la difesa civica decentrata. Abbiamo incominciato in alcune province, tra cui Alessandria e il verbano Cuseossola, siamo già attivi. Ci sarà quindi un collegamento tramite Skype tra l'ufficio, ma quello che ci interessa, il cittadino e il difensore civico della regione Piemonte per la soluzione e soprattutto per l'approfondimento sulle tematiche che i cittadini vorranno rappresentare al difensore civico regionale. L'obiettivo è di aprire questi collegamenti e quindi di implementare il servizio alla comunità in tutte le province al più presto. Il 5 dicembre si è svolto il primo collegamento in videoconferenza via Skype tra il difensore civico ed un utente. L'udienza ha riguardato i disagi lamentati a causa dei ripetuti ritardi dei coinvolgiti Tranitalia che l'utente utilizza con frequenza da Verbagna a Torino per ragioni di lavoro. Il servizio che è stato inaugurato oggi è un servizio molto importante perché consente al difensore civico di essere presente, sia pur attraverso la videoconferenza Skype, un mezzo molto moderno, molto utile e soprattutto pochissimo costoso, in tutte le province del Piemonte. Il cittadino, gli utenti, i comitati, associazioni, enti che vogliono rivolgersi al difensore civico possono farci una telefonata e parlare con me, parlare con i nostri funzionari e cercare di vedere come risolvere i loro problemi e come è possibile per loro rivendicare il diritto ad una buona amministrazione, anche dove vivono.